Ma guardi, visto quello che è accaduto in passato, tutto può succedere. Certamente garantiamo il rispetto degli accordi da parte del PDL, perché anche in passato è andata così e anche su questa vicenda delle commissioni non verremo meno alla parola data. E se invece alcuni del PD dovessero votare insieme con alcuni del Movimento 5 Stelle si crea? Questo lo vedremo dopo.